Cambiamo disciplina, parliamo di canottaggio dal 2004. Le più forti squadre italiane del Pararowing si ritrovano a Torino per celebrare i valori dello sport per tutti. Il trofeo Rowing for Rio Paralympic Games 2016 si svolge su due giorni e ogni anno ospita più di 100 rematori provenienti dall'Italia e dall'Europa. Grande successo per l'edizione 2013 che si svolta al Circolo Canottieri Armida di Torino. Qui stiamo vedendo le immagini. Sabato si sono sfidate le squadre Special Olympics e alla domenica gli atleti professionisti. In gara gli atleti della Nazionale Paralimpica e vincitori dell'Argento ai Mondiali 2013 in Corea. Lucilla Aglioti, Paola Protopapa, Omar Airolo, Tommaso Schettino e il timoniere Peppiniello di Capua. Momenti promozionali per i principianti e per il pubblico interessato hanno fatto da intervallo tra le gare in barca. Ieri mattina durante la manifestazione è stata recuperata la diciassettesima Rowing Regatta sfida tra Università degli Studi di Torino e Politecnico annullata precedentemente per la tragedia di Lampedusa. Quest'anno sono stati gli umanisti ad avere la meglio portando così l'albo d'oro della manifestazione sul punteggio di 10 a 7, 2 a 0 le manci, in questo caso a favore dell'Università. Anche il 4 di coppia femminile è stato vinto dall'equipaggio dell'Università per 2 mance a 0. Ma adesso noi ascoltiamo le interviste con il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abagnale e il famoso timoniere Peppiniello di Capua. È un grande piacere, un grande onore intervistare Giuseppe Abagnale, campione olimpico, due volte di canottaggio nei due con, attualmente presidente della Federazione Italiana di Canottaggio per il quadrienne olimpico. Siamo qui in una manifestazione, quella dell'Armide che si svolge tutti gli anni, è bello avere il presidente della federazione qui. Più che altro è un piacere mio presenziare a questa manifestazione che ha uno scopo sicuramente importante, lodevole e sicuramente di grosso impatto per la società comune. Ce l'ho detto che lei segue ancora con grandissima attenzione tutte le gare e riesce ancora dall'alto del suo blasone ad emozionarsi, è vero? Credo che sia difficile per uno che ha passato 40 anni oramai della sua vita in questo sport non emozionarsi. Ripeto, poi tra l'altro la mia veste in questo momento mi porta ancora di più ad essere vicino a tutte le squadre, per cui diventa difficile non vedere questi ragazzi come un po' quelli che possono in qualche modo rinverdire alcune delle geste. Conoscere le difficoltà che c'è dietro una vittoria, dietro un risultato importante, quindi va da sé che l'emozione sale, non c'è niente da fare, non si può nascondere ed è bello non nasconderlo. No, è bellissimo non nasconderlo. Dobbiamo dire anche che manifestazioni come queste, che a Torino, qui all'Armido e in altre società canottieri sono abbastanza abituali, smentiscono un po' l'idea per cui il canottaggio sia uno sport da ogni quattro anni, soltanto da Olimpiadi. Attorno invece c'è un bel movimento. Il canottaggio ha questa particolarità che esce fuori, soprattutto nell'arco delle Olimpiadi. Poi si spegne un po' l'eco. Noi dobbiamo fare in modo che questo possa continuare nell'arco del quadriennio. È un compito della federazione, ma è un compito istituzionale, quello di dare continuità al movimento, farlo crescere e renderlo visibile a un pubblico più numeroso. Il mitico, se posso permettermi, Peppiniello Di Capua, timoniere del due volto olimpico con i fratelli a Bagnale, qui all'Armida per questa bella manifestazione che si svolge qui a Torino tutti gli anni. È una bella manifestazione soprattutto perché è legata a sportivi con disabilità. Cosa ne pensa? Non si può pensare che positivamente. Sono quelle cose che fanno soltanto bene. Ti danno qualcosa che forse non immagini neanche. È un qualcosa che davvero nessuno doveva mancare a questi appuntamenti. Lei poi proprio recentemente in Corea è tornato in gara proprio con l'Adaptive Rowing. È stata un'esperienza eccezionale. Mi ha dato molto, a prescindere che ho potuto mettere giusto la mia esperienza, ho dato il mio contributo da timoniere, però ho avuto il ricambio una grande, grande cosa.